Il parcheggio del Foro Boario meriterebbe una profonda riqualificazione, oltre che come parcheggio stesso anche come polmone dell'intero quartiere. E sia per la sicurezza di chi lo frequenta, visto e considerato anche che giornalmente ci sono attività commerciali ambulanti, con un via vai di persone anche anziane, con borse della spesa e quant'altro, una frequentatissima farmacia, oltre a tutta la mole di gente che per via dell'ospedale viene anche da fuori città e quindi per il giusto decoro della città di Fano. Lo chiede a gran voce e da tempo, ma senza ricevere dalla macchina amministrativa comunale grandi riscontri Sergio Schiaroli, attento e profondo conoscitore della città. Sarebbe bene mantenerlo al meglio, d'altra parte una parte è stata già asfaltata e tutta la zona intorno è asfaltata da parecchi mesi e quindi sarebbe necessario intervenire anche qui perché anche per chi va a piedi o in bicicletta c'è qualche rischio, ma diciamo anche dal punto di vista del decoro. Anche riqualificarla in totale non sarebbe male? Sì, questa è un po' un'idea che io ho lanciato da tempo, teniamo presente che la sera qui parcheggiano, fanno i turni soprattutto giovani infermieri dell'ospedale e quindi un minimo di sicurezza in più con qualche punto luce superiore sarebbe bene, è una richiesta tra l'altro che viene da lontano. Poi si potrebbe anche attrezzare per esempio con dei cestini. Grosse e profonde buche poi rendono in caso di pioggia difficoltoso il parcheggiare all'asciutto, piazzone che per ottimizzare gli spazi andrebbero segnate orizzontalmente, ma l'ideale per rendere questo posto ottimale, ma qui siamo veramente all'optimus, creare anche delle zone dedicate ai pedoni con spazi e panchine sfruttabili nella bella stagione, come zone di aggregazione per l'intero quartiere. Per esempio in estate o in primavera, la sera qui le macchine non parcheggiano, a parte chi va in ospedale o i familiari dei malati e quindi si potrebbe diventare anche un punto qualificato di ritrovo per il centro cittadino, ma questo è un desiderio oltre le problematiche attuali. C'è un problema di parcheggio perché effettivamente a volte c'è un po' di confusione per il fatto che mancano le strisce e sarebbe da asfaltare tutto il piazzale, ma almeno il circuito qui perché avete visto voi dalle vostre riprese che è pieno di buco ed è molto rovinato. L'appello è che qualcuno si prenda carico di questo problema? Io ho fatto qualche sollecito, non ho avuto risposte e quindi è bene farsi carico perché voglio dire, ripeto, questo è l'ingresso alla città da chi proviene dall'autostrada e dalla superstrada.